La gente che mi segue da tanto tempo non ci sono solo quelli nati negli anni 90 e quindi per loro le dico un pezzo vecchio sono tutti con me sulle spalle per la scuola della scuola e la maturità odiavo ogni professore migliotevo forse una minaccia alla mia libertà ed ogni sera sopra lo schermo vedevo eroi della mia età ero di certo, ero diverso, ma ci credevo in una vita come al cinema ma qui non è così non c'è il vieto fine poi mi vuoi perdere i tatuaggi fanno male anni dopo che ne batti ma per quello che ricordano hai visto amici andarsi prima del tempo sei sicuro che dall'anno ti partentano intanto aspetti col policea quello che a te vuole è unica che ti sistema ogni problema e lei che ti completerà ma qui non è così ma qui non è così è questo e lo scelgo è in generale poi mi scelgo è in generale e se mi dice ti so ancora chiaro che No! 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 Fatemi sentire l'urlo! E manda bene! L'acqua dopo questa squadra! No! 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 Ma così! Ho il dubbio che la mia generazione muova una rivoluzione immaginaria Doveva essere un trovongio greve in un trionfo alla fine della storica Ma qui non è così! L'immagine è un po' scura e domani fa un po' più paura Lei diceva di non lo so E dopo mi stringeva col racconto E diceva di non prenderla così Nace e cresce No! 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 Nace e non! No! No! Grazie!